Ciao a tutti ragazzi, io sono Sam Sniper Show e oggi sono qui per mostrarvi un glitch semplicissimo ovvero consiste nel saltare nell'ascensore dove si attiva la corrente vicino e uguale o questo o l'altro ascensore premere X velocemente mentre saltate e esattamente in quest'angolo il lomino resterà sospeso là nel glitch in aria e boh, avete fatto il vostro bel diritto ci vediamo al prossimo video, ciao! ciao ciao ciao